Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Stamattina meditiamo il Vangelo di Luca, capitolo 21, versetti 12 a 19. Ascoltiamo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, Metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora l'occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore Carissimi, questo brano ci racconta che Gesù prepara i suoi discepoli perché dopo di lui anche loro subiranno la stessa sorte, la persecuzione, l'odio e così via. Ma Gesù chiede agli apostoli di avere fede in lui. Quando saranno davanti ai tribunali, Gesù darà la parola e la sapienza per la loro difesa. Qui potremmo ricordarci dei martiri che nonostante le sofferenze hanno continuato, hanno mantenuto la loro fede e hanno dato testimonianza. Ecco, carissimi, seguire Cristo vuol dire percorrere questa via della croce. Ma Gesù ti dice come agli apostoli, in ogni occasione dovremmo dare testimonianza, come all'immagine dei martiri. Non dico che andiamo fino al sangue, perché no, tutto è possibile, ma soprattutto di non abbandonare Dio davanti alle difficoltà. Perché tanti di noi oggi non pregano più, non vogliono più sentire Dio, perché secondo loro sono stati abbandonati da Dio. Invece siamo noi che abbandoniamo Dio. Ma Gesù ci rassicura, dovremmo avere fiducia in Lui, dovremmo perseverare con Lui, solo con la perseveranza che noi salveremo la nostra vita. Non potremo abbandonare Dio perché ci sono le difficoltà. Ogni occasione per noi è un momento favorevole per dare testimonianza. Ma di sicuro Dio non ti abbandonerà mai. Allora vi auguro una buona e santa giornata. rimaniamo fiduciosi, perseveranti in Cristo.